In questo nuovo video speciale ti propongo una pratica di meditazione di Mindful Eating per il tuo caffè del mattino. Se non bevi il caffè va bene qualsiasi altra bevanda calda, dal tè alla cioccolata. Abbiamo già parlato più volte del Mindful Eating e della meditazione applicata all'alimentazione. Uno dei problemi più grandi che ci troviamo ad affrontare ai giorni nostri è quello dello stress quotidiano e questa cosa si ripercuote anche sul raggiungimento dei nostri obiettivi di forma fisica. Quando siamo stressati è più difficile raggiungere dei risultati e spesso tendiamo a cercare conforto nel cibo. Un buon modo per ridurre lo stress è quello di coinvolgere tutti i sensi e a questo proposito praticheremo ora la meditazione Mindful della tazza di caffè che potrai eseguire ogni volta che ti sentirai sopraffatto da un'emozione stressante. Per praticare questa meditazione del caffè del mattino prepara la tua bevanda calda preferita, trova una posizione seduta e comoda, poni davanti a te la tua tazza e lasciati guidare dalle mie parole. Ma prima ti do il benvenuto in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist, Diet Coach e creatrice di WellDelight e nei miei video ti parlo del mio approccio all'alimentazione sana, soprattutto chetogenica e low carb e come esperta di mindfulness applicata all'alimentazione di tante strategie anche di mindset per tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se ti interessano questi temi e hai questi obiettivi, puoi iscriverti al canale e attivare le notifiche. Benvenuto in questa pratica Mindful della tazza di caffè del mattino. Per questa meditazione abbiamo bisogno di una tazza calda di caffè o di tè o della tua bevanda preferita del mattino. Metti pure in pausa questo video se devi ancora prepararla. E quando sei pronto, siediti in una posizione confortevole dove ti piace di più sul tuo letto, sul divano o anche all'esterno circondato dall'aria fresca del mattino. Il modo in cui iniziamo la giornata è importante, quindi questa meditazione vuole connetterti con te stesso attraverso qualcosa di buono e caldo. Iniziamo tenendo gentilmente in mano la tazza calda e facciamo insieme tre respiri lenti e profondi. Inspira con il naso e lentamente espira con la bocca. Ancora una volta inspira ed espira Inspira ed espira Permetti al tepore della tazza di irradiarsi attraverso le tue mani distendendo le tue dita. Ora inspira ed espira in modo naturale ma permettendo al tuo torace di espandersi. Il te stesso a connetterti con il momento presente Prendi consapevolezza del qui ed ora e gentilmente abbassa le palpebre Sentiti a tuo agio Continua ad ispirare ed espirare Ascolta il battito del tuo cuore E lascia che con gentilezza e curiosità la tua attenzione si sposti all'interno del tuo corpo E gentilmente porta la tua attenzione a te stesso, al tuo respiro E connettiti con quello che ti circonda Suoni, oggetti, profumi Prendi coscienza di queste cose Ora sposta la tua attenzione alla tazza calda Alla sensazione della ceramica sulle dita Avvicina la tazza alla bocca E adorane l'aroma Percepisci il vapore sul tuo viso Lentamente porta la tazza alle labbra e bevi un sorso Senti il caffè caldo in bocca Mentre attraversa il tuo corpo Avvertine la sensazione reinvigorente Inspira ed espira prima di fare un altro sorso E nota la complessità del gusto del caffè mentre scende nella tua gola fino allo stomaco Ora prenditi del tempo per continuare ad assaporare la tua bevanda finché non sarà finita Non farti distrarre da altre attività E resta concentrato sulla respirazione e sui sorsi della tua tazza calda Goditi questo momento solo tuo in cui non fare altro E se avverti che la tua mente inizia a vagare Inizi magari a pensare a cosa devi fare oggi A come devi aggiustare determinate cose Semplicemente prendi coscienza che la tua mente vaga Non giudicarla soprattutto se non hai mai meditato prima Semplicemente riporta la tua attenzione alla tazza Resta in questo momento per nutrire te stesso con gentilezza Connettendoti con te stesso Sorseggiando e respirando La nostra pratica di oggi è finita Ma puoi restare in questo stato fino a quando lo desideri Questa che abbiamo praticato insieme è solo una delle strategie di meditazione per perdere peso Se vuoi conoscerne altre ti invito a scoprire il mio percorso completo più magrico nel Mindful Eating Che contiene 9 tracce audio con 7 meditazioni guidate di Mindful Eating E 7 esercizi pratici da svolgere inclusi in un ebook Trovi il link qui e in descrizione Io spero che questa pratica ti sia stata utile Ti invito ad ascoltarla ogni volta che vorrai E se ti è piaciuta fammelo sapere mettendo un like a questo video O scrivi in un commento che sensazioni hai provato durante questa meditazione Ciao e ci vediamo alla prossima